Musica Un centinaio di persone in prevalenza donne e bambini sono state trasferite nella notte alla caserma Montello di Milano. Il blitz notturno è stato deciso per evitare contestazioni anti-immigrati, stasera presidio di protesta del centrodestra. Esattamente un anno dopo la sua chiusura Expo torna di attualità per le polemiche scatturite dallo stralcio dalla legge di stabilità di 8 milioni per il trasferimento sull'area espositiva del campus dell'università statale. Sono 25 cavalcavia Lombardi da monitorare per garantire la sicurezza degli automobilisti, intanto tra circa 45 minuti dovrebbe riaprire la Milano Lecco. La statale è chiusa da venerdì pomeriggio per il crollo del cavalcavia D'Annone. È morto Silvio Gazzaniga, il padre della Coppa del Mondo di Calcio. L'artista e scultore milanese aveva 95 anni. Buonasera dalla TGN, benvenuti a questa edizione del nostro notiziario. Dunque, come avete sentito dai titoli del nostro sommario con un blitz che è stato condotto nella notte per evitare possibili manifestazioni di protesta, la prefettura di Milano ha deciso il trasferimento dei primi profughi alla caserma Montello di Milano. Si tratta di un certinaio di persone in prevalenza, donne e bambini. Il centrodestra ha organizzato per stasera un presidio di protesta, come ci racconta Alberto Carreras. Per domani i partiti del centrodestra e un comitato di cittadini avevano annunciato una manifestazione per dire no all'arrivo dei profughi alla caserma Montello di Milano. Così, con un blitz a sorpresa per evitare possibili disordini, nella notte un centinaio di migranti è già stato trasferito alla Montello di via Caracciolo senza attendere l'annunciata data del primo novembre. Il trasferimento è iniziato la scorsa notte e si è concluso stamane alle 8.30. La conferma è giunta dalla prefettura. I pullman sono stati notati da alcuni residenti. Stamane non ci sono state contestazioni, ma per questa sera è stato annunciato un presidio da parte di Fratelli d'Italia e da parte del centrodestra. Il consigliere regionale Riccardo Decorato ha detto che sale in Maiorino. Parlano di città accogliente, dicono che i residenti accolgono con gioia i nuovi migranti, ma poi i profughi vengono trasferiti nella notte. I migranti trasferiti alla Montello si trovavano al centro di via Carcano e a casa Suraia. Altri arriveranno dal centro di via Aldini a Quartogiaro, che verrà poi destinato a ospitari senza fissa dimora. A entrare per prime sono state in maggioranza donne con bambini. Altre persone arriveranno nei prossimi giorni. Complessivamente si giungerà al numero di 300 richiedenti asilo. Il prefetto Alessandro Marangoni ha deciso di anticipare le operazioni e il blitz è scattato quando ancora c'era buio. Secondo gli accordi, i migranti potranno essere accolti per tutto il 2017. Poi la caserma dovrà essere consegnata alla Polizia di Stato, che porterà qui tutti gli uffici e i reparti che si trovano attualmente alla caserma di Piazza Sant'Ambrogio. Il governatore Lombardo, Roberto Maroni, ha fatto sapere di essere contrario all'utilizzo di qualunque tipo di struttura, comprese le caserme. Secondo Maroni bisogna seguire la strada dei rimpatri e impedire nuovi arrivi. Un anno fa si chiudeva Expo 2015, 12 mesi dopo l'area dell'esposizione universale. L'argomento centrale di polemiche tra Regione Lombardia e Comune di Milano da una parte e governo dall'altra. L'esecutivo ha infatti stralciato dalla legge di stabilità lo stanziamento di 8 milioni di euro che dovevano servire per avviare il trasferimento sull'area Expo del campus della Statale. Durissime le parole pronunciate oggi dal governatore della Lombardia, Maroni, nei confronti del premier Renzi. Sentiamo Jacopo Casoni. Expo un anno dopo. Un anno esatto perché proprio il 31 ottobre del 2015 chiudeva i battenti la nostra esposizione universale. Cos'è sia stata Expo? Lo raccontano i numeri belli scintillanti anche 12 mesi dopo. 21 milioni e mezzo di visitatori nei 184 giorni di apertura, 7 di questi stranieri provenienti da 140 paesi, 60 i capi di governo che hanno passeggiato tra il Cardo e il Decumano, 300 le visite istituzionali. Peccato che spente le luci si sia tornati ai mesi precedenti il primo spettacolo dell'albero della vita, quelli delle polemiche furibonde e dei soldi che mancavano, svanivano pian piano. I primi 80 milioni per Human Technopole sono sul piatto, ma il trasferimento della statale sull'area che fu dei padiglioni è messo a rischio da una legge di stabilità che pare aver dimenticato i fondi, 8 milioni, che si era previsto distanziare immediatamente per questo progetto. L'università ha fatto subito sapere che senza quei soldi salta tutto, che da sola non può farcela, che se non arriva neanche questa prima minima tranche dei 130 milioni pubblici necessari per portare a termine l'idea del nuovo campus, allora non può fare altro che tirarsi indietro, aggiungendo con rammarico in punta di penna. E Maroni invece oggi ha usato la clava. È una decisione incomprensibile, molto grave, che mette a rischio il futuro stesso dell'area Expo. Il governo aveva detto che i soldi li mettiamo noi, invece li ha messi prima e li ha tolti dopo. Secondo me la decisione di Renzi è di non investire, è molto chiara. Mi preoccupa molto questa decisione. E' giovedì, voglio capire se è davvero così e allora valuteremo che iniziative prendere. Ne ha parlato con Sala? No. Il ministro Martina ricorda lo stanziamento per il polo tecnologico di cui parlavamo e i 50 milioni investiti in aree Expo dal governo, sottolineando come queste operazioni siano la garanzia di un impegno che non mancherà. Intanto però nella legge di stabilità manca quel capitolo, mancano quegli 8 milioni che sembrano un'inezia, ma che fanno suonare un campanello d'allarme. Solo Renzi può farlo snettere anche in virtù di quel patto per Milano, firmato a metà settembre, mica tanto tempo fa. E stasera alle 20 dovrebbe riaprire la statale 36, la Milano Lecco, chiusa da venerdì per il crollo del Cavalcavia all'altezza di Annone Brianza. Intanto proseguono le indagini della Procura della Repubblica di Lecco per rintracciare e per stabilire le cause del cedimento del ponte. Altri 95 cavalcavia della superstrada sono oggetto di accertamenti da parte degli inquirenti e dei tecnici. Le immagini, le abbiamo viste più di una volta, fanno impressione anche adesso, a giorni di distanza da quel crollo. Scene di una vita andata, persa, in modo folle. I familiari di Claudio Bertini hanno chiesto l'autopsia, sottolineando di confidare comunque nelle indagini e nell'accertamento delle responsabilità. La statale riaprirà tra poco, alle 20, questo il termine fissato da chi sta lavorando alla rimozione delle macerie di quel ponte, venuto giù di colpo. Riapriranno tutte le corsie in entrambi i sensi di marcia, queste le immagini dei lavori di stesura del nuovo asfalto, seguiti dal riposizionamento della segnaletica orizzontale e delle misure di sicurezza, guardrail in testa. Nel frattempo prosegue l'inchiesta su quel crollo assurdo con il procuratore di Lecco, Antonio Chiappani, che anche oggi ha sentito alcuni testimoni e che dovrà appurare la causa di quel cedimento strutturale. Saranno probabilmente i monconi dei piloni a dare delle risposte più attendibili, dopo gli accertamenti già disposti dalla procura. Quel che è certo è che quanto accaduto lascia dubbi anche su altri cavalcavia, ben 25 che dovranno essere sottoposti a indagini accurate per escludere che possano condividere il destino di quello di annonebrianza. C'è poi da verificare la procedura che ha portato la provincia a consentire il transito del tir con carico eccezionale che è piombato sulla carreggiata insieme al ponte. Inoltre ci sono da ricostruire le dinamiche del rapporto tra Anas e provincia in quelle ore convulse. Tutto sulla scrivania di Chiappani che però insiste sulla necessità di capire quali possano essere le cause reali del crollo anche per accertare l'usura e le sollecitazioni a cui è stato sottoposto il ponte nel tempo sia per risalire alle responsabilità in merito all'accaduto sia per un discorso preventivo per situazioni analoghe, scandisce. Il tutto ponendo l'accento sull'urgenza di scongiurare ulteriori rischi e intervenire in tempo stavolta. Il giudice per l'udienza preliminare di Milano Ilaria De Magistris ha rinviato a giudizio due ex manager di ATM l'azienda dei trasporti milanesi in relazione alla morte per tumore di sei dipendenti e i casi di altri due lavoratori che si sono ammalati per la presenza di fibre e polveri di amianto nei tunnel della metropolitana milanese nei depositi destinati al ricovero notturno dei mezzi di superficie. Il giudice, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, ha mandato a processo Elio Gambini e Roberto Massetti per omicidio colposo e lesioni colpose. La prima audienza è stata fissata per il 13 gennaio del prossimo anno. Fabrizio Corona, arrestato nelle scorse settimane con l'accusa di intestazione fittizia di beni mentre era in affidamento in prove e servizi sociali, deve rimanere in carcere. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Milano che ha respinto l'istanza di scarcerazione della difesa dell'ex fotografo dei VIP che aveva già cercato senza esito di ottenere la revoca dell'ordinanza cautelare dal giudice per le indagini preliminari. Venerdì scorso invece, dopo l'udienza davanti al Riesame che si è tenuta giovedì, i giudici hanno concesso gli arresti domiciliari a Francesca Persi, collaboratrice di Corona e presunta sua prestanome. A casa della donna sono stati infatti trovati gli oltre milioni e 700 mila euro in contanti nascosti in un controsoffitto e sarebbe stata sempre lei a portare altri contanti in Austria. Corona, sia nell'interrogatoria, sia davanti al Riesame, si è difeso spiegando di non essere un criminale e che su quei soldi in nero delle serate dei locali sarebbe stato ancora in tempo per pagare le tasse dovute. Calano gli esuberi nelle aziende metalmeccaniche della Lombardia ma gli licenziamenti dall'inizio dell'anno hanno raggiunto 4.000 unità, una crisi sempre molto grave secondo i dati della FIOM CGL che oggi ha diffuso un bollettino. Alberto Carreras. Gli esuberi sono in calo ma la crisi è sempre molto presente in Lombardia, infatti sono quasi 4.000 i licenziamenti dall'inizio della 2016 nel settore metalmeccanico. Lo rilevano i dati diffusi oggi dalla FIOM CGL. Il mese di ottobre, che si è concluso, ha fatto registrare in Lombardia 442 esuberi. La diminuzione è netta rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, quando la cifra si attestava a quota 805. Dall'inizio dell'anno sono ben 3.800 i dipendenti tra operai e impiegati che hanno perso il lavoro nella nostra regione. Le cifre indicano una diminuzione di circa un terzo dei licenziati nel confronto annuale tra il 2015 e il 2016. Per quanto riguarda i territori, la crisi e la conseguente messa in mobilità ha colpito in particolare la provincia di Milano, 187 esuberi. Seguono Lecco, 98. Varese, 83. Monza, 26. Bergamo, 22. Secondo la FIOM CGL, anche là dove si è verificata una contrazione del ricorso agli ammortizzatori sociali, alla fine questo non ha generato un ritorno alle produzioni e a quelli che erano i livelli occupazionali prima della crisi. Il segretario della FIOM Lombarda, Mirko Rota, ha dichiarato che nonostante la riduzione degli esuberi, i licenziamenti nelle aziende di medie e grandi dimensioni purtroppo si stanno avvicinando alle 4.000 unità. Si tratta di un numero elevatissimo, ha sottolineato Rota, considerando che negli anni precedenti in Lombardia, annualmente, si sono riscontrati circa 5.000 licenziamenti in media. Nemmeno Job Act e gli incentivi alle imprese hanno consentito di recuperare il numero di quanti hanno perso il lavoro con nuove assunzioni, determinando anzi un calo pesante degli occupati. In pratica si tratta di persone licenziate che sempre di più non riescono a trovare nuova collocazione, proprio perché la crisi continua in numerosi settori industriali. Ancora a cronaca è stato estradato in Italia dall'Albania l'ultimo ricercato per la rapina in un'abitazione di Pollenzo che nel giugno dello scorso anno causò la morte della proprietaria di casa a una pensionata di 84 anni. È un pregiudicato albanese di 21 anni, residente nella provincia di Milano, che si era rifugiato in patria per sfuggire all'arresto. È accusato di rapina aggravata come morte come conseguenza di altro delitto, furto e ricettazione. Il giovane è accusato di far parte della banda che il 21 giugno del 2015 fece irruzione a casa di Mariangela Prandi a Pollenzo, una frazione di Bra nel Cuneese. La donna imbavagliata e legata riuscì a liberarsi dopo che i rapinatori, fuggiti con un bottino di appena 5 euro, un telefonino e un binocolo, si erano allontanati. Nel PC rubato aveva tutti i dati della sua tesi di laurea, per questo il bar di Via Sarpi ha deciso di denunciare l'accaduto mettendo sul suo gruppo Facebook le immagini del furto registrate dalle telecamere interne. Le vedete in queste immagini. Nel video si vede un uomo pelato che sale le scale. A fianco c'è un tavolo con una ragazza di spalle che guarda lo smartphone. Due borse sulla sedia, l'estofante si guarda in giro, come vedete, poi scende qualche gradino, studia bene le due borse sulla sedia, poi allunga la mano destra, come avete visto, e sfila una sacca con dentro il computer portatile. La proprietaria rimane ferma, fissa sul telefonino, ignara dell'accaduto e rimane senza la sua tesi di laurea che era memorizzata nel computer. Tre malviventi armati di pistole e fucili hanno messo a segno una rapina in un centro giardinaggio di Rescaldina in provincia di Milano, ieri sera poco prima dell'orario di chiusura. In quel momento c'erano tre dipendenti, uno dei quali è stato costretto ad aprire le casse dove erano contenute circa 10.000 euro. Prima di scappare i banditi hanno chiuso in un bagno E3 che hanno dato l'allarme appena sono riusciti a liberarsi. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Legnano. Torniamo a Milano, 190 commercianti riceveranno i contributi previsti dal Comune di Milano per le attività particolarmente danneggiate dai cantieri della linea 4 della metropolitana che sta per essere costruita. Si tratta di somme che vanno dai 5 ai 15.000 euro. Vediamo. Era stato ampiamente annunciato che i cantieri della linea 4 della metropolitana milanese sarebbero stati particolarmente invasivi in talune zone. Tra queste c'è via Foppa dove numerosi commercianti si sono visti circondare i propri esercizi da scavi e barriere. Sono 190 i negozianti e gli esercenti che potranno accedere ai contributi previsti dal Comune di Milano per quelle attività che risultano particolarmente danneggiate. È stato chiuso infatti il secondo bando indirizzato a quei commercianti che rientravano nelle categorie a impatto elevato e molto elevato. Palazzo Marino a questo scopo ha stanziato 2 milioni e 400 mila euro. Considerando i soldi già messi sul piatto precedentemente, il totale raggiunge circa 6 milioni di euro. Risorse a copertura di spese realizzate sia per investimenti fatti negli ultimi tre anni sia per le normali spese di gestione delle attività a cui si aggiungono i 22 spazi commerciali messi a disposizione sempre dal Comune e a canone agevolato. L'assessore Cristina Tagliani ha annunciato che Palazzo Marino sta lavorando a ulteriori misure da mettere a disposizione dei commercianti affinché il sostegno possa essere costante per tutta la durata dei cantieri che dovrebbero terminare nel 2022. I 190 che hanno risposto al bando vedranno riconoscersi contributi a parziale copertura di spese per canoni di locazione, utenze, tributi locali, acquisto di materiale d'uso e spese necessarie per il proseguimento dell'attività. Ai titolari di attività giudicate a impatto molto elevato andranno contributi per 15.000 euro mentre a quelle classificate a impatto elevato verranno corrisposti 5.000 euro. Per i commercianti si tratta di cifre che non possono assolutamente compensare i mancati introiti a seguito dei disagi per la clientela ma ovviamente in un periodo di crisi difficilmente si poteva sperare in qualcosa di più. Insomma, come si dice, meglio poco che nulla. Nel bilancio triennale 2017-2019 la Giunta regionale della Lombardia ha inserito un piano straordinario di investimenti nel settore della sanità per 500 milioni di euro ad annunciarlo. È stato il Presidente Roberto Maroni che con l'assessore all'economia Garavaglia ha illustrato i provvedimenti di bilancio approvato nella riunione di oggi che saranno discussi dal Consiglio regionale nella sessione di fine dicembre. I 500 milioni destinati all'acquisto di macchinari innovativi all'edilizia sanitaria, alla riduzione di liste d'attesa all'assunzione di personale e alla riduzione dei ticket sanitari sono stati definiti come la misura principale nonostante i tagli del governo. L'ipotesi pesore per il 2017 era di tagli per oltre 400 milioni alla Lombardia ma la Giunta, ha detto Maroni, è riuscita a ridurre il danno a 270 milioni di euro attraverso accantonamenti del passato e tagli alle spese. Maroni ha quindi assicurato che la disponibilità di risorse su un bilancio complessivo annuale che è di circa 23 miliardi di euro non inciderà sui servizi ai cittadini. Giorni intensi di celebrazioni quelli che attendono il Cardinale Scola nelle festività di ogni santi e dei defunti. L'Arcivescovo in queste ore ha anche visitato l'Istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone a 120 anni dalla sua fondazione. Scola ha richiamato il ruolo fondamentale dell'associazionismo e del volontariato cristiano. Anna Maria Braccini Un momento di particolare importanza riflessione e preghiera è quello che la Chiesa Ambrosiana si accinge a vivere nei prossimi giorni con le festività dedicate a tutti i santi e ai defunti. Così il Cardinale Scola domani alle 11 presiderà il pontificale di ogni santi in Duomo trasmesso integralmente in diretta su Chiesa TV, canale 195. Nel pomeriggio alle 15.30 l'Arcivescovo celebrerà invece la messa vigiliare per i defunti come tradizione presso il cimitero monumentale. Mercoledì 2 novembre Scola alle 10 sarà nella Basilica di Sant'Ambrogio per la messa per i caduti di tutte le guerre. Alle 15.30 al cimitero maggiore presiderà l'Eucaristia per i defunti. Ancora sempre il 2 novembre alle 17.30 il Cardinale sarà invece in Duomo per un'analoga celebrazione trasmessa sempre in diretta su Chiesa TV. Intanto Scola visitando l'Istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone fondato 120 anni fa da Don Domenico Pogliani Oggi una Ollus con 16 centri e 9.000 persone l'anno anche con gravissime disabilità seguite ha rilevato la forza dell'associazionismo e del volontariato. Tutta la società civile capisca che queste istituzioni non devono essere un problema perché sono una risorsa e quindi bisogna fare tanti sacrifici tutti i sacrifici necessari. Strumento fondamentale per la società elemento, ha detto, di vivacità che rende la nostra società civile unica in Europa e nel mondo probabilmente. Me lo disse sia a Venezia il sindaco Cacciari che a Milano il sindaco Pisapia è un dato di fatto tutte e due mi dissero che senza l'apporto della Chiesa del volontariato della Caritas eccetera ma non solo anche di tante istituzioni civili eccetera loro i comuni non avrebbero le risorse per reggere un welfare e questo evidentemente ci porta ad un discorso di altra natura cioè un discorso politico vale a dire a quali sono le priorità e le gerarchie che una politica adeguata a questa fase di grande cambiamento deve mettere in atto. Altri approfondimenti sul tema andranno in onda in Chiesa della Città oggi su Chiesa TV canale 195 a partire dalle 20 e 25 ricordiamo che Milano commemorerà i difunti e onorerà la memoria dei benemerichi dei benemeriti con due giorni di commemorazione in programma al cimitero monumentale e al cimitero maggiore mercoledì 2 novembre alle 11.30 si svolgerà la cerimonia di scoprimento delle lapidi dedicate ai 15 nuovi benemeriti iscritti al famedio al monumentale con la partecipazione del sindaco di Milano Sala prima abbiamo visto le immagini di Silvio Gazzaniga il padre della Coppa del mondo di calcio l'artista e scultore milanese aveva 95 anni aveva disegnato e realizzato nel 1971 per la FIFA il prestigioso trofeo dei mondiali di calcio è morto stamattina era milanese era nato a Milano il 23 gennaio 1921 e nella città Natale che ha molto amato cresciuto e si è sviluppato il suo talento artistico oltre alla Coppa del mondo di calcio aveva progettato anche la Coppa UEFA la Supercoppa europea e la Coppa Under 21 in tema di calcio vi ricordo che dopo la sigla e le previsioni del tempo Gigi Balestra con Michele Lanati a Nova Stadium Sprint parleranno ovviamente della crisi dell'Inter con i possibili sviluppi per quanto riguarda la panchina di De Boer che è dato per partente staremo a vedere che cosa succede ovviamente tutte le indiscrezioni tra poco a Nova Stadium Sprint quindi alle 20.30 in linea d'ombra con Adriana Santa Croce alle 20.30 ci sarà il faccia a faccia con un tema omeopatia contro medicina tradizionale ne parleranno Tiziana di Giampietro e Fabrizio Pregliasco poi dalle 21.15 il talk con Augusto Schieppati del PD Gianmarco Senna della Lega Simone Zambelli presidente del municipio zona 8 sinistra per Milano e poi Gianluca Comazzi capogruppo di Forza Italia al Consiglio Comunale di Milano ci sarà anche Tulio Trapasso portavoce del comitato giù le mani dalla Montello stasera c'è un presidio di protesta da parte il centro-destra contro l'accoglienza alla Montella dei migranti e dei profughi dalle 22.30 vi ricordo linea d'ombra sempre i telefoni aperti per dire la vostra ai nostri microfoni è tutto per questa edizione grazie alla cortese attenzione al TGN e l'augurio di una serena serata attenzione al TGN 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 attenzione al TGN